Incontriamo Varese, che è una squadra che secondo me, al contrario della classifica, del posto classifica che occupa rispetto al gioco espresso e anche quanto le partite che hanno disputato con tante perse nell'ultimo minuto, nell'ultimo quarto, vedi l'ultima per esempio contro Torino, ha una falla classifica secondo me bugiarda, nel senso che forse avrebbe meritato qualcosa di più, una squadra che gioca con grande ardore, con grande temperamento, che non molla mai, con giocatori che si stanno mettendo in mostra per questo campionato, e mi riferisco soprattutto a Wells, Kane e anche allo stesso Pell, che è cresciuto molto in questa stagione. Da parte nostra sarà molto importante l'approccio alla partita, sarà molto importante continuare in questo percorso, in una situazione che ormai mi sembra di essere un disco rotto, di ripetere in estrema emergenza, dove ogni momento ce n'è una, però ormai è diventata più che una situazione di emergenza, sta diventando una situazione normale nell'emergenza, e quindi sotto questo aspetto sicuramente ci saranno ancora quintetti un po' particolari, con giocatori magari spostati in altri ruoli, e per quanto si sta cercando un nuovo equilibrio con l'assenza di Orelick, rientrerà Jenkins, però è un continuo adattarsi. Penso che sarà una partita dura, una partita comunque atleticamente molto dura, perché Varese è squadra che gioca con molto corpo in tutti i contatti, in tutti gli uno contro uno, sia per quanto riguarda i piccoli che per quanto riguarda i lunghi, sarà importante impattare a livello fisico questo match, per questa intensità, cercando di avere il controllo dei rimbalzi, perché comunque Varese è una squadra che ha molta propensione al rimbalzo offensivo, ripeto, sia con le guardie che con i piccoli. Ci sono tutti gli ingredienti affinché sia, speriamo, una bella partita.